Anche la città di Afregola è giunta alla gognata approvazione del PUC, il piano urbanistico comunale che delineerà l'assetto del territorio negli anni a venire. Ad annunciarlo il sindaco Antonio Pannone. Il 20 luglio sarà una data da ricordare, ha scritto il primo cittadino, parlando di un traguardo storico che arriva a quasi 50 anni dall'approvazione del precedente piano regolatore. Gli obiettivi prefistati sono ampiamente attesi e condivisi dai cittadini che ci hanno premiato alle ultime elezioni, continua Pannone, elencando una serie di punti cardine del programma, quali il recupero e la valorizzazione del centro storico, in gran parte costituito da edifici vetusti, abbandonati o occupati illegalmente, la razionalizzazione delle aree produttive, la rigenerazione urbana e per ultima, ma non da ultima, la valorizzazione della stazione ad alta velocità. Il tuoriello architettonico firmato da Zahadid ed attualmente utilizzato da un numero sempre crescente di cittadini non solo dell'area nord di Napoli, che non è ancora adeguatamente servito né da mezzi di collegamento né da strutture ricettive per i viaggiatori. L'approvazione arriva con 20 giorni di ritardo rispetto a quanto previsto dalle leggi vigenti, sottolinea il consigliere d'opposizione Antonio Giazzetta, che parla anche di un lavoro segreto, dato che, scrive Giazzetta, neanche a noi consiglieri comunali è stato permesso di sapere qualcosa in più e di offrire un contributo utile. Dopo l'approvazione in giunta, il PUC dovrà passare per il Consiglio Comunale. Siamo fiduciosi che la maggioranza saprà compiere il proprio dovere, scrive il consigliere Giuseppe Migliore. Il futuro di Afragola continua, è pieno di opportunità e successi, e questo nuovo strumento urbanistico segna l'inizio di una nuova era.